Pioggia dal tetto e pannelli che finiscono sul pavimento è quanto denunciato nelle scorse ore dai genitori dei piccoli ricoverati nel reparto di neonatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, come testimoniano le foto pubblicate dal quotidiano online Arezzo Notizie. Parte della pannellatura del controsoffitto è crollata a terra a pochissima distanza dalle incubatrici. I macchinari vuoti al momento sono stati spostati sul lato della stanza. Il reparto è in sicurezza, risponde subito la ASL Toscana Sud-Est. L'infiltrazione, secondo quanto risposto dall'azienda sanitaria, sarebbe stata causata dalle copiose piogge di questi giorni e ha provocato danni ad un pannello del controsoffitto, ma i tecnici della manutenzione si sono subito attivati per superare le criticità e già a partire dalle prossime ore è previsto un intervento specifico nel tetto della neonatologia. È importante sottolineare, precisa Letizia Maggi, che dirige il reparto, che i neonati sono sempre stati in sicurezza perché posizionati in una zona non interessata dalle infiltrazioni. Sull'argomento interviene anche il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti. Le difficoltà anche semistrutturali del nostro San Donato, afferma che risulterebbero essersi verificate, mettono in evidenza la necessità di procedere fin da subito al piano di investimenti straordinario che da tempo abbiamo proposto.